ma non ci sono di particolari però comunque è stata posso dire soltanto che è stata una trattativa velocissima non ho aspettato un minuto per per decidere di venire qui con il primo stipendio mi sono comprato mi sono comprato un cellulare nuovo allora in cosa mi devo migliorare in tanti sotto tanti aspetti della del mio del mio carattere del mio del mio stare in campo in cosa mi sento forte diciamo mi sento forte nella nella testa nel gestire nel gestire la partita e devo migliorare ancora ancora tanto sotto sotto tutti i punti di vista mi sarebbe piaciuto fare tennis se non fossi comunque all'avanzato qui nel nel calcio in tv guardo serie tv guardo spesso partite di calcio quando quando non sono di tiro e questo pazzie no ho fatto cose magari un po fuori le righe però sono un po sono un ragazzo diciamo alla vecchia maniera non mi piace tanto né apparire né né fare pazzie di qualsiasi genere una commenta nesta per quanto mi riguarda per quello che mi lega colori bianco celesti totti è stato diciamo uno dei grandi del calcio quindi da lui c'è soltanto da da ammirarlo e da da imparare con gli occhi ok troppe lette devo far v p e l ok non me ne voglia la mia ragazza che faccio sempre la v per lei ok però comunque domenica farò p e l domenica farò p e l